È una domanda veramente difficile. È importante, noi abbiamo giocato insieme oggi, abbiamo fatto qualche tempo bene. È importante che non abbiamo perso sulla testa, ma vediamo altre partite. Sempre posso fare meglio, ma adesso io non gioco benissimo, non è al 100%, ma ogni partita vediamo. Diciamo che è una cosa positiva, oggi non abbiamo preso il gol, abbiamo avuto l'occasione, è mancato il gol. Adesso non penso che la cosa importante è di pensare troppo, adesso dobbiamo lavorare, andare avanti, perché abbiamo una partita importante già domenica contro l'Udinese. Come ho detto, è mancato questo gol oggi. Sì, è vero che adesso dobbiamo trovare la vittoria a San Siro, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Come ho detto, oggi dobbiamo vedere la cosa positiva, non abbiamo preso il gol. Manca ancora questo gol che permette alla squadra di vincere le partite. Come ho detto, andiamo a cercarlo domenica. Prima di tutto sono contento per loro, perché sono due amici, allora mi fa piacere. Dopo è vero che abbiamo perso due campioni, questo lo sappiamo, ma come ho sempre detto c'è qualità dentro questa squadra. Oggi abbiamo creato, abbiamo creato tanto, penso perché abbiamo avuto l'occasione. Dopo è mancato questo gol, adesso dobbiamo andare avanti, lavorare duro e dimenticare questa partita e pensare a questo di domenica. Grazie Wille Grazie